Il patrimonio storico, artistico e culturale di Gioiosa Guardia e Gioiosa Marea raccontato attraverso i video degli studenti. Pochi minuti e tanta creatività per trasmettere la bellezza e l'interesse di luoghi spesso dimenticati. Si è concluso con la proiezione dei video spot realizzati dagli alunni delle scuole del comprensorio di Gioiosa Marea il progetto Gioiosa Guardia, Storia, Identità e Cultura, promosso dall'Associazione Afeip di Iaca di Piraino realizzato dall'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Il progetto, che ruota attorno all'antica città fortificata medievale di Gioiosa Marea, ha voluto promuovere e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia attraverso la trasmissione alle nuove generazioni della memoria storica, artistico-letteraria, documentaria ed etno-antropologica. Promuovere e valorizzare a più ampio raggio la cultura e l'identità della Sicilia, il suo patrimonio storico e sociale, il paesaggio e le comunità locali attraverso il concetto di identità, conoscere le proprie radici per conservarle. Nelle tappe precedenti del progetto, gli alunni delle scuole aderenti hanno potuto confrontarsi con esperti della storia e della cultura gioiosana per poi toccare con mano e visitare i luoghi che ne custodiscono le prezieose testimonianze. Oltre all'antica cittadina fortificata di Gioiosa Guardia, le classi, divise in gruppi, hanno visitato l'Antiquarium di Gioiosa Marea, il Museo Diocesano di Arte Sacra e la Chiesa Santa Maria delle Grazie. Successivamente, sulla scorta delle informazioni e del materiale raccolti, hanno realizzato dei piccoli video che raccontano in maniera creativa la storia di Gioiosa Marea. All'evento conclusivo del progetto, svoltosi nell'auditorium comunale Franco Borat, erano presenti, in qualità di relatori, la dottoressa Arianna Giardina, etno-antropologa, la professoressa Rosalie Perlungo, studiosa di tradizione e cultura siciliana, e l'assessore alla pubblica istruzione di Gioiosa Marea, Carmelita Lisciandro.